Viene firmata a Chivasso nel 1943, in piena guerra e sotto occupazione nazista da esponenti della resistenza delle valli alpine, piemontesi, valdesi e valdostani, la Carta di Chivasso. È il testo fondatore del federalismo italiano, che compie 71 anni, ed è stato ricordato proprio nel luogo della firma, con una giornata ricca di iniziative per cittadini e scuole sotto il patricigno dei consigli regionali di Piemonte e Valle d'Aosta. Altamente simbolica è stata la celebrazione del gemellaggio con il comune di Ventotene, l'isola confino a largo della costa laziale, dove fu scritto nel 1941 il manifesto alla base del federalismo europeo.